Qui non è questione di passi indietro, l'Italia non è disposta a fare passi indietro, l'Italia ha sofferto così tanto in questi mesi che vuole una ripresa veloce, pronta, certa e questo è il momento del coraggio, quindi non ho assolutamente motivo di dubitare che pur nella varietà di posizioni che ci possono essere dalle forze pulite di maggioranza si trovi la convergenza per una semplificazione vera, robusta e abbiamo già fatto interventi di semplificazione, sono rivelati dei passi avanti ma adesso occorre veramente un passo risolutivo.